buongiorno a tutti questa mattina prestissimo come sempre sono le sei e mezza siamo a Cividale del Friuli e questa è la famosa e grandissima caserma Lanfranco Zucchi sede dal 75 del 59 battaglione fanteria meccanizzato Calabria e purtroppo come tante caserme dismessa ormai da almeno vent'anni purtroppo non risultano progetti per la riqualificazione di questa zona è una caserma gigantesca e parliamo che all'incirca di 400 metri da un lato e 300 dall'altro circa veramente enorme sto facendo il giro delle mura per capire il da farsi